Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovissimo video dei milanisti del web oggi con l'analisi del giorno dopo di Milan-Parma finita 3-1 per i russoneri allora, cosa vi devo dire? partita che abbiamo sempre gestito, secondo me, anche sotto nel primo tempo un po' troppo disordinati e non riusciamo a sconfiggere questa resistenza parmenica che chiudeva bene tutti gli spazi, anche Teo è stato molto ben limitato è una fase offensiva nel primo tempo una cosa che vorrei sottolineare, che nessuno ha detto è che al ventesimo minuto, più o meno se non sbaglio Cornelius esce, aspettate che controllo qua sì, al quindicesimo minuto, scusate Cornelius esce ed entra Caramont e questo, secondo me, è stato poco sottolineato ma è un aspetto più che decisivo perché il Parma non riusciva, diciamo, a far salire la squadra nel momento in cui era in fase difensiva non aveva il riferimento alto per far salire la squadra far respirare la difesa far ripartire più velocemente l'azione ma doveva per forza passare dal centro campo e lì siamo stati molto bravi, secondo me nel pressarli alti soprattutto con Chessy e Bonaventura che si alzavano quasi sulla linea dei difensori insieme a Ibra e anche a Leao veramente molto bravi e concentrati poi si vede che stiamo bene cioè tutto quello che facciamo ci esce bene siamo in un periodo veramente che ci va bene anche sulla fortuna ecco, perché serve anche questo siamo in salute veramente partita che, secondo me, anche sotto voglio analizzare un po' il gol sul gol è azione veramente bella del Parma che riesce a combinare in modo molto semplice ma efficace e forse è un po' passiva la marcatura di Romagnoli che lascia troppo ribello l'attaccante del Parma che è il centrocampista del Parma scusate che va a battere in rete niente da fare per Donnarumma e niente veramente Milan è messo veramente bene in campo in gamba, lo ripeto veramente eravamo messi bene eravamo ben posizionati c'erano gli spazi giusti tra i reparti appunto, a parte quei cinque minuti dopo il gol, diciamo, di confusione abbiamo sempre tenuto noi la partita poi nel secondo tempo rientriamo facciamo due gol uno veramente spettacolare di Chessy che tira veramente un missile sotto l'incrocio Chessy che veramente oggi per dinamismo quantità ma anche qualità di per sé ha veramente giocato bene forse è una delle prime partite giocate bene da Chessy da quando è al Milan veramente poi sul 2-1 su colpa di testa di Romagnoli finalmente risegniamo sul calcio piazzato perché veramente in questi anni siamo una delle scuole che ha segnato di meno un bel gol poi nel primo tempo mi sono dimenticato di fare anche un applauso a Sepe perché mi sembra che abbia fatto una parata sempre su Romagnoli però là non mi ricordo se Romagnoli abbia preso solo palo o Sepe l'abbia toccata comunque là lo dico da portiere mi è piaciuta veramente come parata allora volevo evidenziare questa questa sua prestazione comunque sul 2-1 però rischiamo un po' la partita si apre più di più più equilibrata il Parma riesce con inglese ad avere quel punto di riferimento che dicevo io che doveva avere con Cornelius infatti ha detto meno male che è uscito Cornelius perché con lui secondo me la partita se sarebbe stata molto più equilibrata di quello che è stato in verità Donnarumma fa due buelle parate Lasagna sbaglia un gol poi c'è la traversa di Kulusevski dunque là un po' abbiamo rischiato poi nel momento migliore del Parma arriviamo arriva Cielanoglu che su una su un buonaventura allarga allarga bene il campo infatti secondo me la cosa che stiamo riuscendo a fare bene perché siamo messi veramente bene in campo riusciamo a sfruttare bene l'ampiezza giochiamo molto bene in ampiezza riusciamo a sfruttare l'ampiezza grazie alla punta di riferimento davanti alla mobilità degli esterni e del trequartista ovviamente ci troviamo molto bene allarghiamo bene la difesa per riusciamo a trovare spazi tra le linee ed è una cosa che veramente sta facendo molto bene ed è un plauso che voglio fare a Pioli e grango al di Cielanoglu che la chiude 3 a 1 Milan che vince questa partita purtroppo la Roma ha vinto il Napoli ha pareggiato dunque agganciamo il Napoli in campionato però la Roma rimane davanti ora se non sbaglio la Roma gioca domenica contro l'Inter e non dico speriamo che vinca l'Inter perché io non spero mai che vinca l'Inter però dai un pareggino potrebbe uscire se proprio deve vincere una partita l'Inter spero la vinca oggi ecco mettiamola così dunque dai e poi cioè oggi intendo scusate domenica il Napoli invece non so non ha idea contro chi giochi noi se non sbaglio giochiamo contro Bologna e dopo Sassuolo dunque speriamo bene cioè io ormai spero nel quinto posto secondo me è fattibile siamo a meno 4 dalla Roma credo dunque possiamo fare domani uscirà un video sulla mia opinione Pioli Ragnic meglio tenere meglio cedere meglio cambiare allenatore questo è un video che uscirà domani questo è un video veloce analisi perché alla fine non c'è tanto da dire il Milan ha dominato è in salute non partita eccellente però si vede che siamo messi bene fisicamente ripeto perché molti adesso si esalteranno non eravamo forti prima non siamo forti adesso secondo me siamo in un periodo di forma ottima e questo ci permette di giocare meglio a calcio anche perché quando giochi quando sei in forma fisica rimani risultati anche mentalmente sei più libero ma questo non vuol dire che abbiamo dei fenomeni adesso stiamo giocando abbastanza bene perché ci troviamo bene in campo lo ripeto perché adesso sembra che siamo una squadra da no cioè siamo comunque una squadra buona sì ma niente di eccezionale io ancora trovo il Napoli molto superiore sulla carta intendo di rosa a noi la Roma la Roma un po' un po' il nostro contrario è proprio a pezzi a livello societario e e di squadra e quelle le a4 davanti sono proprio un altro livello almeno la Lazio a livello di panchina no ma gli 11 titolari a voglia non consideriamo la partita perché io ripeto chi prende in considerazione questo questo campionato diciamo da giugno e quello prima fa un errore perché è un campionato totalmente diverso totalmente diverso in quella non dobbiamo prendere la Lazio di giugno prendiamo quella di gennaio di febbraio che se giocava contro il Milan di febbraio gliene dava 6 5 gliene dava dunque vediamo speriamo bene sempre forza Milan vi do appuntamento domani con un video domani dovrebbe uscire sia un video che una live la sera però ancora non si sa vi darò notizia nel video di domani iscrivetevi al canale lasciate like condividete commentate se avete qualcosa da dire a riguardo della situazione o dite no io non sono d'accordo con te sono d'accordo con te seguiteci su Instagram molto importante io vi saluto bella ragazzi no io non sono d'accordo